Ancora protagonisti Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie, a poche ore dalla diretta del GFVIP6. Il giovane non è stato bene dal punto di vista della salute. Infatti è stato colpito da febbre e dolori attribuibili molto probabilmente ad una cistite. Inoltre è stata annunciata anche una novità clamorosa, della quale lui ne è ancora all'oscuro. Infatti Alfonso Signorini ha voluto invitare l'ex fidanzata Federica, che potrà dunque parlare con il geffino di argomenti che al momento non sono stati svelati. Ma è accaduto anche qualcosa al di fuori della casa più spiata d'Italia e i due concorrenti del reality show di Canale 5 se ne sono accorti. La reazione in particolare della principessa è stata duramente criticata dal popolo del web, che sta iniziando a non gradire assolutamente ciò che sta facendo. A riferire la notizia in questione sono stati alcuni utenti di Twitter, che in quel frangente stavano seguendo la diretta H24 in onda su Mediaset Extra. Alcune fan di Manuel Bortuzzo si sono appostate all'esterno del GFVIP6 e hanno iniziato a gridare il suo, nome per attirare la sua attenzione. Immediata è arrivata la replica della Selassie, Manuel è mio, bimbe. E un utente ha twittato, ma lei quanto anni ha? 5 anni per caso? Voi cosa ne pensate?